casite le piccole casette campestri sono un immancabile segno distintivo dell'identità dignanese le casite sono piccole casette di roccia che i pastori utilizzavano per ripararsi dalla pioggia per depositarvi gli utensili agricoli o per nascondervisi la notte mentre facevano la guardia nei campi per proteggere le culture da eventuali malintenzionati queste casette rappresentano un'eredità importante per conoscere le costruzioni dell'intero mediterraneo e sono un ricordo dello stile di vita che si conduceva da queste parti praticamente da sempre dignano vanta la maggiore concentrazione di casite sul proprio territorio si stima che ce ne siano circa 2000 anche se hanno perso da tanto tempo la loro funzione d'uso i dignanesi ancora oggi mantengono e restaurano le casite proteggendo in tal modo il proprio bene culturale viene organizzata in tal senso anche l'iniziativa moe cajun la mia casita per tramandare anche ai più giovani dignanesi questo tesoro di inestimabile valore